Diamo Kruz, sei entrato, sei stato decisivo con il tuo gol e l'assist per Ibraimovic. Che firma stai mettendo su questo scudetto dell'Inter, visto che ogni volta che entri poi risulti decisivo? Sono contento perché oggi mi ha toccato un treno nel secondo tempo e subito la prima parte mi sono incontrato con il gol. Sono contento, felice perché oggi abbiamo vinto una partita importante in corsa al campionato. A tuo avviso questa partita qui quanto conta in questo momento proprio per il campionato, visto che adesso con questo distacco ad esempio il Milan non mi può più raggiungere. Siamo contenti perché prima eravamo a meno 30, oggi ci siamo a meno 33. Senti Giulio una cosa, Ronaldo ha fatto quel gol, sembrava una partita in qualche modo stregata con quella rete e vi ha caricato ancora di più quel gol? Sì, più che altro non guardo, so che ho fatto un bellissimo gol, questo lo abbiamo visto tutti, però la cosa che mi piace molto piacere è che la famiglia Moratti è contenta, perché prima di questa partita ci aveva chiesto di vincere questo derby e questo è per loro. Come riesci a non far mai trasparire la delusione quando non parti dall'inizio e poi essere decisivo quando entri? C'è un segreto? Non è facile, non è facile, però credo che nel passare dei anni mi sono abituato a questo e va bene, così si entro, faccio gol, va bene.